L'amor che nulla amato amar perdona, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, l'amor che muove il sole e le altre stelle, effettivamente ho sentito sia l'interpretazione di Benigni che l'interpretazione di Gasman, secondo me Gasman, Gasman il nonno poi mi sa, perché mi sa che ha avuto un figlio, poi adesso c'è Alessandro, che cacchio dico, vabbè comunque Gasman, che purtroppo è morto tanti anni fa, dattelo a vedere, te lo lascio in descrizione, secondo me è superiore, non me ne vogliono i radical chic nostrani, Gasman è superiore sia per interpretazione, devo dire che voli sui versi, allora io mi definisco un ignorante, uno che parla delle sorelle dell'Ai, uno che quelle di Dubai che fanno vedere il Bighini, uno che non ha mai letto un libro in vita sua o quasi, solamente nei tempi del liceo, saluto vecchie generazioni, poi non lo so, io ti posso parlare di una Passat, di una monovolume, ma non ti posso parlare di Dante, hai capito? Ho sentito un secondo la parafrasi, nell'ultimo canto, Dante, nel canto 33, Dante e San Bernardo salgono al paradiso, c'è questo stupore meraviglioso, secondo me non è una preghiera, è una cosa commovente, è una poesia, è una cosa, forse non ci sono parole, invece l'altro è più, è più, è più, il canto di Paolo e Francesca il quinto canto dell'inferno è perché loro sono nel girone dei dannati perché? perché Francesca era stata promessa in sposa di questo malatesta che era brutto, grobo e si innamora di Paolo che era un bellissimo uomo quindi vengono uccisi vengono messi nel girone dell'inferno questo in sostanza te la riassumo io non sono colto non sono Rita Levi Montalcini hai capito? non sono Gali della Loggia non sono Pane Bianco non sono Paolo Mieli non sono Umberto Eco bellissimo il nome della rosa io non l'ho mai letto per esempio però ecco se posso dirti la mia se posso dirti la mia ascoltali perché sono una preghiera sono una poesia sono qualcosa di straordinario di epico di magnifico e poi questi sono grandi anche Benigni è un grande interprete è una cosa è commovente è un'esperienza mistica è quasi una preghiera io li ho ascoltati tutti e due due volte e ho trattenuto è veramente quasi trattimi le lacrime a stento quando senti questi grandi del teatro e recitare questi versi che sono qualcosa di straordinario di epico non ci sono parole cioè veramente anche una persona ignorante come sottoscritto poi io metto insieme la Ferrari di Maradona il bikini della De Grenet la politica di Berlusconi le olgettine e Dante Alighieri hai capito questo perché questo perché mi piace scherzare con voi grazie a tutti